In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant'Antonio, sabato 12 giugno, presso la Baia di Trentova, si è svolto un piccolo momento di preghiera comunitaria, con in seguito la benedizione dei trattori e degli animali e la rievocazione del Beato Transito nella Chiesa a Lui dedicata. Come è andato questo piccolo momento di preghiera a Trentova e soprattutto quanta partecipazione c'è stata da parte dei fedeli? A parte un momento di interruzione dovuto a una pioggia passeggere, è stato veramente un bel momento, preparato con grande cura da parte di tutti gli agricoltori della Contrada Moio, che si sono prodigati per preparare il luogo della celebrazione e non hanno voluto far mancare la loro presenza con i propri mezzi agricoli, con gli strumenti del loro lavoro. Questa è una cosa molto commovente perché ci ricorda come sia importante nelle nostre attività quotidiane aprirci alla dimensione del trascendente, riconoscere che nel nostro lavoro non siamo da soli, ma c'è l'azione della grazia di Dio che ci accompagna, come d'altronde ci ricorda anche il brano del Vangelo con le due parabole del granello di senape e del seme caduto nel campo. L'uomo si impegna con il sudore della fronte, ma è il frutto del proprio lavoro che si offre a Dio e anche, potremmo dire, sacrificio, offerta che santifica l'uomo stesso. E in questo, ecco, la devozione verso il Santo di Padova, verso Santo Antonio, ci aiuta, aiuta i nostri fedeli a vivere tale dimensione più profondamente. È stato un bellissimo momento in cui abbiamo potuto celebrare l'eucaristia insieme a tutto il mondo agricolo, quindi a tutti i lavoratori che fanno parte di questo mondo. Inoltre abbiamo dato dimostrazione di quando la comunità Moio sia una grande famiglia e sia unita. Infatti, con tutti i portatori e con tutti coloro che fanno parte del Comitato, abbiamo organizzato queste tredicine itineranti dal 7 di giugno fino al 12 giugno e abbiamo potuto celebrare la messa in vari posti della contrada. Questo a dimostrazione di quando sia unita e quando sia coesa la nostra contrada e tutti coloro che ci abitano. Io condivido in pieno ciò che ha detto Carmine perché siamo fieri di stare in questa comunità. Ne posso testimoniare ciò perché io sono nata e cresciuta e più andiamo avanti, più ci rendiamo conto che veramente è una grande comunità. Basta chiedere una cosa, subito si aprono tutte le porte. Crediamo e speriamo in Santo Antonio che ci faccia la grazia, che possiamo veramente creare con il nostro donno, con tutti quelli cittadini del Moio, una grande chiesa, ma chiesa la chiesa del popolo, perché noi del Moio siamo per il popolo, cioè uniti tutti per una sola cosa. Oggi mi sono molto emozionata perché Moio è sempre una grande famiglia e l'ho constatata da quando abbiamo incominciato i lavori e pure adesso che si fanno i festeggiamenti. Grazie a tutto Moio che io ho incontrato, a parte collaborazione materiale, ho trovato sempre gentilezza e ospitalità. Adesso non abito più aggro, Moio però io sono sempre di Moio.